Nuovo report del comune di Agropoli riguardo altri 5 cittadini che sono risultati positivi al Covid-19 nella giornata di ieri, 21 dicembre. L'aslam è aggiornato in merito a 5 nuovi casi di positività al Covid-19 nella nostra città. Nel contempo ci sono state anche 5 guarigioni. Lo fa sapere il sindaco Coppola attraverso una nota stampa. Quindi il totale di positivi resta fermo a 26, mentre il numero di guariti dall'inizio della seconda fase della pandemia è pari a 106. Nuovi contagi anche nel comune di Castellabate. Lo rende noto il sindaco facente funzioni, Luisa Maiuri, dopo diversi giorni di stop ai contagi. Purtroppo l'aslam mi ha comunicato 7 nuovi casi positivi a Castellabate. Alcuni di questi sono contatti di persone positive che vi ho segnalato alcuni giorni fa. Due casi non hanno alcun collegamento. Per tutti è stata ricostruita la rete dei contatti, già tutti in isolamento. Vi comunico inoltre sottolinea Maiuri che si è negativizzata una persona risultata positiva tempo fa. La situazione attuale nel comune di Castellabate è la seguente. 11 cittadini totali sono positivi al Covid-19 e 44 le persone guarite dal virus. Ora più che mai, conclude il sindaco facente funzioni, vi rinnovo l'appello al ferreo rispetto delle regole ad evitare ogni spostamento superfluo. I nostri comportamenti di oggi determineranno il nostro futuro. Anche nel comune di Capaccio Pestum nella giornata di ieri registrati sei nuovi positivi e tre nuovi cittadini che negativi al tampone di controllo risultano guariti. Il totale degli attuali positivi nella città di Capaccio Pestum si aggiorna a 105 unità con 132 persone in isolamento domiciliare e 167 guariti totali.